Sarà sfida tra ex quella di lunedì sera tra Carpi e Pescara. Tra i biancazzurri si parte ovviamente da Lenyan Memushay, che ai nostri microfoni già due giorni fa ha confermato come questa sia per lui una gara speciale. Due stagioni non consecutive in Emilia, 65 presenze e ben 16 gol. La prima in C con promozioni sfiorate in cadetteria. La seconda, dopo la parentesi di Lecce, in Serie B con una salvezza centrata. In quella squadra il capitano era Lele Pesoli, attuale allenatore in seconda del Pescara. Da marzo 2014 si è poi seduto sulla panchina del Carpi, quel Bepi Pilon, ora tecnico dei biancazzurri, che a salvezza raggiunta non ha trovato l'accordo per la permanenza e il Carpi si è poi affidato a Fabrizio Castori, che avrebbe costruito il Miracolo Serie A e che ora sempre su quella panchina lotta per evitare la Serie C. Tra gli emiliani l'ex più significativo è Mamadou Koulibaly, arrivato in prestito a Gennaio da Rudinese. Il centrocampista senegalese è stato lanciato tra i grandi proprio in riva l'Adriatico a Pescara ha debuttato anche in Serie A e la sua storia personale, venuta fuori ai tempi degli esordi, ha colpito in tanti. Lo scorso anno una stagione con più bassi che alti, in totale 37 presenze e 3 gol in biancazzurro. Tra gli ex anche il portiere Federico Serraiocco, pescarese, è cresciuto nelle giovanili del Delfino e l'esterno Gian Mario Piscitella. Circa i precedenti, nelle sette gare disputate, non è mai uscito il segno X. Quattro le vittorie del Delfino, l'ultima delle quali all'andata con l'autorete d'Inbaia e il raddoppio di Mancuso. Tre le affermazioni delle Carpi, la prima proprio con Pillon sulla panchina emiliana. I biancazzurri vogliono appellarsi al detto non c'è due senza tre, visto che nelle ultime due gare giocate al Cabassi si è imposto 1-2 con Baroni in panchina e 0-1 lo scorso anno con Zeman. Circa la stretta attualità, nuova seduta odierna mattutina. Presente Campagnaro, che però è uscito anzitempo per un affaticamento muscolare. Si complica dunque il suo recupero verso Carpi e Bettella va verso il debutto in maglia biancazzurra. Persiste poi il ballottaggio sulla destra tra Ciofani e Balzano. Sul fronte Carpi, Outcolombi di Noia, Jelenic, Concas, Rizzo e Mustacchio anche ieri hanno lavorato a parte. Se mai dovessero recuperare, dunque difficilmente saranno titolari.